Non c'è tempo di piangersi addosso per il Pineto che esce male dal turno di domenica e forse meglio sostiene il tecnico Pomante che prima dell'infortunato Cercelluti presenta un inedito 3-5-2. Sempre la conta sulle mani per Bitetto che oltre a Demoleon e Caso perde Cipriani che viene rilevato da Modic mentre sulla corsia a destra Tedone vince il duello con Antonelli. In avanti Barlafante e Paudice. Inizio di marca bianca-azzurra. Inspiegabile l'assismo della difesa giallorossa Romano Murato d'Amora poco convinto. L'attaccante ringrazia l'estremo difensore. Sviluppi di calcio e di punizione al quinto ma Strippolito scheggia il palo. Questo fa salire l'attenzione dei giallorossi che con prove di offesa tengono sull'allarme il Pineto. Minuto 21. Barlafante si ricama la palla e calcia delizioso verso Mercorelli che sporvera la sfera e la indirizza oltre il legno traverso. Alla mezz'ora tutt'altra fattura ma simile clamore per il bolide di Massetti che lambisce la traversa. Ma il Pineto è sempre in agguato. Trentottesimo schema da battuta d'angolo Romano. Rapace di testa brucia tutti e metta dentro. 0-1. Prima frazione di gioco che si chiude in pratica al gol biancazzurro e ripresa che si apre con il segno di Luca Paudice. Che si procura in 40 secondi la massima punizione. Cardella non ha esitazione sull'atterramento da parte di Della Quercia. Così il numero 9 dal dischetto manda palla a sinistra e portiere a destra. Pochi minuti il tempo di riportare la palla sul fronte avversario e su traversone di Della Quercia. Ferrini allunga la zampata sbagliata e insacca la propria porta. Botta e risposta al dodicesimo. Prima esposito sul filo dell'offside che si fa contrarre al tiro e poi Paudice che chiama in causa Mercorelli che evita l'accorrere di Barlafante. Al ventesimo contatto in area Bertolo Barlafante manica larga da parte del direttore di gara Cardella che indica il dischetto. Paudice è glaciale e concede il bis stavolta palla a destra e portiere a sinistra. Ventisesimo il Pineto non ci sta la reazione tutta sul piede di esposito che fa vibrare il legno sulla sinistra di Mora. C'è maggiore intensità dei biancazzurri mentre il Giulianova che non opera cambi preferisce proporsi di rimessa. Ma poco o nulla, anzi nulla, anche negli over 5 di recupero ed il derby finisce in parità. Un punto per il Giulianova che avrebbe necessitato dei tre. Per il Pineto il rimpianto di non aver giocato la gara come dopo il 2-2 in cui ha messo più cuore e rabbia, più intensità.